Ho conosciuto Daniele in questa bellissima isola, l'ho conosciuta in spiaggia, poi in una bella serata a cena, da lì si è acceso qualcosa che è stata una cosa che non si è mai più spenta, andava sempre crescendo, una fiamma. Non ci sono parole per descriverlo, l'ho frequentato per un annetto, l'ho conosciuto, ho visto che grande persona che è e penso che è la cosa più bella che una donna può avere. Ho preso tutto quello che c'era di lei e l'ho trasportato verso di me, ho trovato in lei una persona meravigliosa che piano piano mi ha dato sempre più gioie, alla fine mi ha dato dei figli e questa è stata la cosa più realistica, la cosa più meravigliosa che poteva accadere. Caro Roberto, ti dico tante cose che tu ben sai, sei la mia vita, io voglio invecchiare con te, tu mi hai fatto capire cos'è l'amore, sei il mio respiro. caro Daniela, domani è il nostro giorno, penso che sarà la cosa più bella della nostra vita e saremo veramente per tutta la vita insieme, lo siamo sempre stati, ti amo. ma lui c'è un nome, mi ha troppato della famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.